allora dalla nostra auto adesso ci vediamo un filmato di nuovo con Federico e nonno Faustino al teatro all'aperto stiamo parlando sempre di Carletto Life e c'è un episodio in cui Federico fa una donazione a un senza tetto a una persona senza tetto che va in giro con un cane e quindi compra da mangiare per il senza tetto per il cane e poi gli regala una piccola somma di denaro e fa anche una riflessione su questo a voi filmato buona serata come si è comportato? malissimo mi ha trattato come un cane malissimo proprio io gli ho portato questo mazzo ha detto io so di carattere non lo voglio e sai chi il piglia? lo do a te lo prende Federico e ci si fa una frittata grossa come una casa quel mazzo di fiori che viene dalla montagna e c'è Faustino non lo magna e lo magna sto cazzo c'è un signore lì alla panchina con un cane che mi ha detto che lui va in giro per l'Italia gli ho detto ma scusa ma dove dormi stasera? mi ha detto alla stazione a Bastia e gli ho detto ma che mangi? niente mi ha detto come niente? come è possibile niente? a me stai qua sono fanno tenerezza Feliciano e Rex tenete stasera grazie stasera c'è la cena due panini con la porchetta la roba per il cane quattro bottiglie d'acqua e anche una birra grazie sei contento? grazie a te mi raccomando fa per bene sta attento eh si va bene? si oh bello guarda che bel sorriso che c'è eh questo per domani per il pranzo li spende per le cazzate eh mi raccomando questo per il pranzo e la cena dei domani va bene? grazie pie in panino di quella porchetta sta il top porchetta tutto il giorno grazie grande Feliciano dai oh 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 scusa si chiama Rex Rex si si e dopo noi ci lamentiamo per le cazzate io in primi sai perché io non sono santo anzi però se posso fa del bene fa sempre fai del bene e scordati fai del male e pensaci che tenerezza che mi ha fatto almeno stasera era un po' più felice che situazioni che ci stanno in giro non ve lamentate non ve lamentate perché ce l'avevamo tutte al pari della bocca c'è qualcuno che non c'ha nemmeno una casa non per carità queste cose devono succedere perché ti devono fare i fetti ma poi torniamo a casa vediamo un po' una gabbana grazie a tutti